volendo in maya possiamo come abbiamo caricato il formato bin all'interno di real flow possiamo anche farlo in software come per esempio maya o 3dx max in maya possiamo farlo utilizzando l'import direttamente dalla shelf sostanzialmente vado a prendermi le particles del bin eccola qui load create e lui mi creerà un emettitore adesso magari un po pesante da vedersi postiamo al frame magari 5 eccola qua questa è tutta la nostra schiuma la nostra schiuma che noi possiamo andare a compositare successivamente e per compositarla per renderizzarla ora vediamo che viene visualizzata totalmente a dot quindi appunti però per renderizzarla al meglio quindi anche con un po di motion blur che è quello che poi va a fare la reale differenza possiamo utilizzare vari sistemi se utilizzassimo plugin come per esempio krakatoa potremmo anche andare a utilizzare un magma per creare appunto della velocity quindi per creare delle parti dove sono più veloci e altre invece meno veloci ad ogni modo per vederlo comunque per renderizzarle al meglio l'ideale sarebbe assegnare una una forma una forma e dare anche una scala differente per far questo io posso tranquillamente selezionando la mia il mio bin dall'attribute editor o particle size in questo caso particol cat size 0.1 però devo dargli anche come viene vista questa mia mesh quindi sceding invece che poi posso dare sfida già vediamo che che modifica totalmente l'effetto quindi abbiamo delle sfere molto molto grandi addirittura già da qua posso andare a regolare per esempio l'opacità il colore l'incandescenza per esempio il colore potrei dare anche un'altra colorazione più verde verde bianco ok in base all'age oppure in base all'accelerazione lo speed ok già qui vediamo radius così via potremmo andare a uno smooth così almeno avrà una linea di interpretazione differente e poi successivamente dal nostro particle size dallo scale sostanzialmente qui è lineare qui è off lineare lineare perché perché io posso anche lavorare con le curve quindi avrei queste curve qui questa che posso portarla a zero e vedo che ho già un effetto differente potrei anche metterla un pochino più sopra rispetto a e qui ovviamente devo scegliere la diciamo il parametro per il quale vengono scalate ok se io metto l'age vedo che va a fare qualcosa ma non tanto speed ok quindi in base alla velocità ovviamente 0.1 e già questo è il mio fattore di scala quindi magari 0.01 e vado già a fissare qualcosa di differente e quindi una volta che io vado a renderizzare queste mie sfere ovviamente con tanto motion blur vado a creare sostanzialmente l'effetto di foam e poi dopo lo posso compositare con software come per esempio fusion o nuke o after effect ovviamente l'ideale sarebbe anche andare a importare dentro la nostra mesh in VDB e oppure importarla sia e renderizzare sia il materiale acqua per la mesh in VDB e quindi renderizzare tutto in un corpo unico oppure andare a crearci con la mesh una sorta di matte object quindi un oggetto che cattura le ombre o comunque che va a nascondere alcuni elementi perché ovviamente qualcosa magari se si va a compositare non torna perfettamente però questo è uno stratagemma questo è uno dei motivi per il quale io preferisco anche esportarmi il formato BIN che sicuramente pesa tantissimo in fase di calcolo però permette un interscambio molto più rapido e migliore rispetto ad altri formati con appunto con altri software per andare a creare alcuni effetti un pochino più particolari che si va a creare alcuni effetti un pochino più piccolari che si va a creare alcuni effetti un pochino più piccolari